carissimi amici amiche benvenuti o bentornati a questo ciclo di catechesi su Maria di Magdala negli scritti di Maria Valtorta oggi questa puntata capita nell'occasione di una ricorrenza che è un po' l'altra metà del sole rispetto alla vicenda di questa straordinaria creatura che è appunto Maria di Magdala perché oggi è la festa della verginità della verginità di provenienza, della verginità diciamo così conservata di natura oggi è il 21 di novembre, è la festa della presentazione di Maria al Tempio l'omelia che ho fatto questa sera si chiama il ritorno della verginità nel mondo prima di Maria Santissima questo dono immenso questa condizione che richiama ciò che Dio aveva pensato per il genere umano era andata completamente smarrita è stato il coraggio, l'audacia e anche l'amore unico, la vocazione unica della nostra regina che gli ha fatto fare l'ingresso nel mondo prima che venisse l'autore stesso della verginità che è il nostro Signore Gesù Cristo a incarnarsi nel suo grembo ecco perché diciamo queste cose ecco perché chiaramente Maria di Magdala è la grande convertita quindi mentre Maria Santissima è la purezza assoluta sono le due condizioni, non è un caso certamente che sotto la croce c'erano soprattutto come rappresentate Maria Giovanni e Maria di Magdala anche Giovanni era l'apostolo vergine Maria di Magdala è invece la storia della grande convertita quindi dico lei che ha toccato il fondo ma poi grazie a lei ovviamente la storia della ragazza ma anche una grandissima volontà di risurrezione lo vedremo tante volte torna a recuperare quello che aveva perduto e quindi è il 21 di novembre amici un omaggio a Maria Santissima e alla sua eccellenza oggi era assolutamente doveroso detto questo riprendiamo la nostra lettura al paragrafo intitolato bella come sua madre allo spirito indomito di suo padre quindi lo spirito era quello di Teofilo questo uomo abbastanza potente forse è un termine non troppo adatto insomma però molto in vista e certamente molto molto facoltoso molto rispettato a quei tempi vado subito a leggere perché così non non ci dilunghiamo troppi in ulteriori ostacoli e quindi possiamo riprendere la lettura Gesù è arrivato a Cana nella casa di Susanna la sposa divenuta discepola delle note nozze Susanna era nominata nel Vangelo tra le discepoli di Gesù secondo il scritto di Maria Valtorta la sposa delle nozze di Cana è appunto questa Susanna la ringrazia di aver dato ospitalità ad Aglae una giovinetta pagana che per lui ha lasciato una vita libertina Aglae non so se si legge Aglae o Aglae me lo sono sempre chiesto io non so era appunto un'altra grande peccatrice alla Maria di Magdala o forse anche peggio adesso non sono in grado certamente di giudicare che Gesù aveva avvicinato o meglio Sant'Andrea l'Apostolo aveva avvicinato quando Gesù si trovava in un posto che gli scritti di Maria Valtorta chiamano le acque speciose l'acqua speciosa dove fece tutti quanti gli insegnamenti sui dieci comandamenti e durante quei giorni appunto Sant'Andrea agganciò questa grande peccatrice che poi credo da lui fu portata a casa di Maria Santissima e da Maria Santissima fece la confessione generale prima da lei ecco Maria Santissima lei esortò ad andare a fare la stessa cosa da Gesù bellissimo anche in quell'episodio che si vede la Madonna ascolta la Madonna consola però gli dice io il perdono dei peccati non te lo posso dare ed è vero la Madonna il perdono dei peccati non può darlo questo possiamo farlo noi sacerdoti ma non può farlo neanche lei no? bene comincio la lettura io ancora ti ringrazio del bene che hai fatto dice appunto Gesù a Susanna oh mio signore ma che bene mai non le ho dato che amore il nome tuo perché altro non so fare era una povera sorella lo capivo e io per riconoscenza all'altissimo che mi ha tenuta nella sua grazia l'ho amata e hai fatto più che se avessi predicato non è bel nidrash ora ne è qui un'altra l'hai riconosciuta quindi la moglie ha portato fuori Maria ma di Magda si vede che era esperta ecco nella gestione ecco di casi di di ecco super peccatrici sulla via della redenzione no? e chi la ignora per queste contrade risponde nessuno è vero dice Gesù ma ancora ignorate voi e le contrade la seconda Maria quella che sarà sempre della sua vocazione sempre questo è sempre scritto in corsivo quindi vuol dire che Gesù sta calcando su questa cosa ti prego di crederlo risposta tu lo dici tu sai io credo di anche aggiunge Gesù io amo so che è più difficile compatire e perdonare uno che ha mancato essendo dei nostri che non uno che ha la scusa di essere pagano perché Maria di Magdala era un'ebrea non era come Aglae che era una pagana appunto una ballerina una mima peccatrice ma se il dolore di vedere apostasie familiari fu forte più forte sia il compatimento e il perdono io ho perdonato per tutto Israele termina Gesù marcando le parole ed io perdonerò per la mia parte aggiunge lei perché penso che un discepolo debba fare ciò che fa il maestro se è nella verità riprende Gesù e Dio ne giubila andiamo dagli altri la sera scende sarà dolce il riposo nel silenzio della sera non ci direi nulla maestro non so ancora entrano nella cucina dove sono preparate pietanze e bevande per la scena prossima Susanna si va avanti dicendo con un lieve rossore sul viso giovanile vogliono le mie sorelle venire con me nella stanza alta dobbiamo preparare presto le mense perché poi dobbiamo stendere i giacigli per gli uomini potrei fare da sola ma ci metterrei più tempo vengo anche io Susanna dice la vergine no bastiamo noi servire a conoscerci perché il lavoro ha fratella escono insieme mentre Gesù dopo aver bevuto dell'acqua corretta con non so che sciroppo va a sedersi con la madre gli apostoli e gli uomini di casa al fresco della pergola lasciando libero le serventi e la padrona anziana di ultimare le vivande si sentono venire dalla stanza alta delle voci delle tre discepoli che preparano le tavole Susanna racconta il miracolo avvenuto per le sue nozze e Maria di Magdala risponde sentite cambiare l'acqua in vino è forte ma cambiare una peccatrice in discepola è ancora più forte voglia è Dio che io faccia come quel vino che io diventi del migliore ecco qui dobbiamo fare per forza il tipo di stop perché sapete che questa storia questa immagine che Maria di Magdala usa quindi che applica a sé il miracolo delle nozze di Cana è in realtà proprio una possibile applicazione del miracolo delle nozze di Cana perché l'acqua simboleggia diciamo così quella vita appunto in odore in sapore in colore che è rappresentata appunto da una vita di lontananza da Dio il vino invece rappresenta anche tutta la sacra scrittura il vino è il vino della nozze il vino della stanza noziale quindi il vino è la vita dei santi la vita di chi vive nell'amicizia con il Signore la vita nella carità tra i tantissimi significati di questo focale primo miracolo di Gesù la nozze di Cana c'è anche questo e vedete la lucidità mentale di questa neoconvertita gli fa subito fare l'applicazione no non avere dubbio le dice Susanna egli muta tutto in modo perfetto ci fu qui una e per giunta pagana da lui convertita nel sentimento e nella fede puoi dubitare che ciò non avvenga per te che già sei di Israele una giovane domanda risposta giovane bellissima e dove è ora chiede Marta solo il maestro lo sa non so se lo dice qui se no ve lo dico io ecco ve lo dico io il maestro dopo averla perdonata l'aveva mandata nel deserto Aglai scompare dal radar va a finire nel deserto e non si sa che fine fa l'ha mandata a fare penitenza tutta la vita non voglio scoraggiare nessuno però questo è quello che è accaduto e sappiamo che anche Maria di Magdara come si vede nei scritti di Maria Valtorta dopo l'ascensione ha fatto la stessa cosa non nel deserto ma nella grotta nella famosa grotta da penitente in quel di Marsiglia ah allora è quella di cui ti ho parlato Lazzaro era da Gesù quella sera e ha sentito le parole dette per lei che profumo c'era in quella stanza Lazzaro lo portò nelle vesti per più giorni eppure Gesù disse superiore ancora il cuore della convertita col suo profumo di pentimento chissà dove è andata io credo in solitudine lei in solitudine ed era straniera io qui sono nota la sua espiazione nella solitudine nella mia nel vivere il mondo che mi conosce non invidio la sua sorte perché sono con il maestro sentite ma spero poter limitare un giorno per essere senza nulla che mi distraghe da lui vedete lo lasceresti domanda no ma egli dice che se ne va e allora il mio spirito lo seguirà sentite che dice con lui posso sfidare il mondo senza di lui avrei paura del mondo metterò il deserto fra me e il mondo la mia e io e Lazzaro dice Marta come faremo già Marta comincia di questa questa non sparisce se va a ritirare la vita privata ma vediamo più risponde Maria Di Magdala come avete fatto nel dolore vi amerete e mi amerete e senza rossori perché allora sarete soli ma saprete che io sono con il Signore e che nel Signore vi amerò è forte e netta Maria nelle sue decisioni commenta Pietro che ha sentito e lo zelote risponde una lama dritta come il padre suo della madre alle fattezze ma del padre allo spirito indomito e collega lo spirito indomito scende ora svelta venendo verso i compagni per dire che le mezze sono pronte questa è una bellissima descrizione edificante gli spiriti indomiti sono quelli che sono capaci di fare grandi grandi cose è noto questo in letteratura e purtroppo come sempre noto in letteratura in ascetica le grandi cose le possono fare nel male ma se poi come dire imbroccano la vita del bene le replicheranno con gli interessi nel bene chiaro che l'esempio che noi dobbiamo trarre ma io non sono uno spirito indomito no forse no però ciò che lo spirito indomito rappresenta noi dobbiamo interiorizzarlo perché se non c'abbiamo lo spirito c'abbiamo la volontà c'abbiamo la volontà e la volontà di essere ferma e risoluta quando si tratta di prendere certe decisioni importanti e decisive per la nostra esistenza ci lasciamo con questa descrizione e adesso c'è un passaggio veramente spettacolare sono contento che è capitato oggi che è il 21 di novembre che è la sosta di Maria di Magdala a Nazareth e il suo colloquio con Maria Santissima e soprattutto l'elezione di Maria Santissima sulla preghiera è uno dei passaggi molto molto belli e toccanti della vicenda di Maria di Magdala e della sua conversione e che fa vedere anche la straordinaria maestria di Maria Santissima che ovviamente dovrebbe non destarci stupore ma è sempre bello poterlo vedere era una maestra di preghiera con la M maiuscola la madre di Gesù le insegna come pregare è il titolo del paragrafo dopo una visita a Nazareth dove l'incomprensione per Gesù ha trovato un nuovo motivo nella presenza della Maddalena il gruppo si dirige verso Bethlehem di Galilea e fa una sosta sul monte che saurasta Merabà passano le ore nell'ombra frusciante del bosco arioso chi dorme chi parla sotto voce chi guarda Giovanni si dilunga dai compagni andando il più in alto possibile per vedere di più Gesù si isola in un folto per pregare e meditare le donne si sono a loro volta tirate dietro una cortina di ondulante caprifoglio tutto in fiore e là si sono rinfrescate ad una minuscola sorgente che ridotta ad un filo forma in terra una pozzanghera che non riesce a mutarsi in rio poi le più anziane si sono addormentate stanche mentre Maria Santissima con Marta e Susanna parlano della loro casa lontana e Maria dice che vorrebbe avere quel bel cespuglio tutto in fiore a veste della sua grotticella la mandalena che si era sciolta i capelli non potendo resistere al loro peso se li raccoglie di nuovo e dice vado da Giovanni ora che con Simone a guardare con loro il mare vengo io pure risponde Maria Santissima Marta e Susanna restano presso le compagne e tormenti per raggiungere i due apostoli devono passare verso il roveto in cui si è isolato Gesù per pregare e adesso sentite comincia Maria Santissima mio figlio trova riposo nella preghiera dice piano Maria la mandalena risponde credo che gli sia anche indispensabile risolarsi per mantenere il meraviglioso dominio che ha e che il mondo mette a dura prova sai madre ho fatto quanto tu mi hai detto ogni notte mi isolo per un po' di tempo più o meno lungo per poter ristabilire in me stessa la calma che molte cose turbano mi sento molto più forte dopo per ora forte dice Maria più tardi ti sentirai beata credi pure Maria che sia nella gioia come nel dolore sia nella pace come nella lotta lo spirito nostro ha bisogno di soffarsi tutto dentro all'oceano della meditazione per ricostruire ciò che il mondo e le vicende abbattono e per creare nuove forze per sempre più salire in israele noi usiamo e abusiamo della preghiera vocale voglio dire che essa sia inutile in visa a dio ma dico però che è sempre molto più utile allo spirito l'elevazione mentale a dio la meditazione in cui contemplando la sua divina perfezione e la nostra miseria o quella di tante povere anime non già per criticarle ma per compatirle e per avere riconoscenza al signore che ci ha sorrette per non farci peccare o ci ha perdonati per non lasciarsi cadute noi giungiamo a pregare realmente ossia ad amare perché l'orazione per essere realmente tale deve essere amore altrimenti è borbottio di labbra dal quale l'anima è assente sosto obbligata amici cari cioè questo che Maria Santissima qui dice è dottrina praticamente universale di tutti i maestri di spirito e di tutti quanti i maestri di preghiera una cosa che ne ho parlato più di qualche volta e adesso però mi riprendo rispolvero alcune cose dette quando parlo di questi argomenti perché sono importantissimi allora da dove comincio Sant'Alfonso Maria dei Liguori e Padre Pio Toro dicevano è prima di loro San Francesco di Sala se una persona vuole intraprendere un itinerario di cammino di santità si deve mettere in testa che deve imparare a pregare pregare non è usare la preghiera vocale non è principalmente usare la preghiera vocale forse anche il rosario che ovviamente non si tocca non si discute ed è come dire la base della preghiera vocale per l'antoromasia ma sappiamo che il rosario si è ordinariamente una preghiera vocale ma sempre come dire già se uno anche lo dice semplicemente annunciando i misteri però il background del rosario è sempre la meditazione e contemplazione dei misteri fondamentali della nostra salvezza in ogni caso però dice stacca la spina trova un tempo ogni giorno e questo amici cari se vogliamo lo troviamo dove stacchi la spina ti metti a cuore a cuore dinanzi al signore cerchi di avere il controllo della tua vita rimetti a posto le tessere riordini e attraverso la meditazione adesso vedremo che cos'è cominci ad entrare nel vortice della preghiera che ti condurrà all'amore perché l'orazione deve condurre a questo l'orazione serve a cercare e a causare in noi l'unione con Dio soltanto con l'orazione vocale all'unione con Dio non ci arriverai mai Santa Teresa Davila scriveva nel castello interiore l'orazione mentale è un grado basso ancora di di preghiera perché c'è l'orazione vocale poi c'è la meditazione poi c'è le prime fasi di contemplazione poi cominciano alla quarta alla quinta dimore le prime forme di preghiera quindi l'orazione di raccoglimento così come la chiama oppure quella che provoca i diletti spirituali che è il massimo diciamo così grado di unione con Dio a cui si può arrivare rimanendo nell'ordinario quindi senza entrare nella cosiddetta preghiera infusa o soprannaturale perché poi dalla quinta stanza in parola l'orazione di guete siano tutte quante le forme di partecipazione e di unione straordinaria con Dio in quello che si chiama tecnicamente la via mistica sul ruolo sul fatto che più di qualche teologo anche molto rinomato nel secolo scorso affermava che la mistica di per sé rappresenta come dire uno sbocco ordinario della vita cristiana perché se la vita cristiana se si capisce bene questa frase si capisce che ha la sua ragione di essere no? perché se la vita cristiana deve condurti all'unione con Dio proprio la massima possibile con Dio gli ultimi gradi dell'unione che forse era raggiungibile su questa terra con Dio sono mistici non sono forse per tutti ma sono mistici in ogni caso la prima cosa quella che lamentava Santa Teresa qual è il primo grande scarto? è la meditazione o orazione mentale come la chiamano i maestri di spirito i maestri di spirito cioè tu hai un soggetto su cui ti metti a meditare un soggetto sacro una verità di fede un testo una pagina a volte può diventare un oggetto magari di meditazione magari facessimo questo la nostra vita le circostanze della nostra vita come facciamo a fare discernimento sulle circostanze della nostra vita? secondo noi dobbiamo rifletterci un po' sopra no? ora il riflettere non è come dire quella operazione un po' cervellotica cerebrale che ne so di un di un ricercatore che deve che deve che deve comporre un'opera deve scrivere qualcosa e deve quindi cervellarsi come un posto il paragrafo il capitolo quindi deve fare un'operazione proprio rigorosamente mentale per no la meditazione che si ha non è questo non è una cioè aprendo il brano del Vangelo e comincio a dire chi lo sa che significa significa dire conditi cioè le mie teorie forse significa così no no la relazione mentale parte appunto dalla meditazione di qualche aspetto di qualche verità di fede ma come tutti i maestri di spirito insegnano e sanno poi tende non si deve stare a leggere si legge un pochino dopo di che si fa un si si riflette un po' dopo di che parte un dialogo con chi ecco con il nostro signore o se uno preferisce con la Madonna con un santo con chi te pare dialogo la cui parte culminante come insegna le maestri di spirito sono le preghiere gli affetti cioè l'esternazione nella preghiera del nostro cuore quindi si tratta di prendere qualcosa dell'amore di Dio e iniziare a ricambiarlo a viverlo l'orazione per essere realmente tale deve essere amore amore amici cari è chiaro che come faccio a vivere una relazione d'amore con Dio che ovviamente è una relazione d'amore particolare no Dio lo trovo qui lo trovo nel silenzio dell'orazione mentale ordinariamente non si trova altrove detto questo riprendo la lettura soprattutto l'obiezione di Maria di Magdala tenete presente che chi non sta in questo orizzonte quindi chi ha una vita diciamo così di preghiera e di fede ridotta soltanto nei margini della preghiera del vocale perché Santa Teresa dice se puoi entrare in paradiso devi osservare i dieci comandamenti quindi se tu preghi regolarmente i sacramenti quindi si spera che stai in grazia se hai le grazie sufficienti non è che vai all'inferno se non fai queste cose però un conto è non andare all'inferno un conto è come dire dare addio ai propositi o alle aspirazioni di fare un buon cammino che ti porti alla santità padre Pio ha le sue figlie spirituali che tutte quelle che si vedono i figli spirituali quando si va a San Giovanni Rotondo che c'era elenco abbastanza folto insomma della schiera delle persone che sono state più vicine al padre e che sono state da lui formate un'ora di meditazione al giorno è tanta un'ora è tanta una mezz'oretta sarebbe bene però trovarla perché non può essere troppo ristretto il tempo dell'orazione allora obiezione di Mari Magdala ma parlare con Dio è lecito quando si hanno le labbra ancora sporche di parole tanto profane io nelle mie ore di raccoglimento che faccio come tu mi hai insegnato tu mi ha posto lo dolcissimo faccio violenza al mio cuore che vorrebbe dire a Dio io ti amo vedete qui domanda spontanea ma noi durante la preghiera o durante altri qualche altro contesto si è mai venuto in mente di dire mio Dio io ti amo quindi e dirlo come lo dice un innamorato a un'innamorata e viceversa un'innamorata a un'innamorato quindi non come dire come per carità se uno non sente niente lo dica perché dicono i mestri di spirito se tu fai un atto di amore anche se non lo senti essendo esercizio come dire privilegiato della virtù cardinale della carità perché dire io ti amo a Dio è l'atto proprio sommo della virtù teologale della carità che non è spero che tutti lo sappiano insomma semplicemente fare la carità al prossimo la beneficenza o le remosi non è questa la carità virtù teologale ma è quella che ci mette in condizione di amare Dio con tutto il cuore con tutta l'anima con tutte le forze e il prossimo come se stessi questo è secondo la dottrina della chiesa la virtù teologale della carità e quindi Maria Di Magdala sente il bisogno di dire a Dio io ti amo perché Dio è l'amore stesso cioè la frequenza su cui il nostro rapporto con Dio si deve sintonizzare è quella dell'amore quando una persona capisce comprende e ha anche nell'orazione un po' di esperienza del sentirsi amato da Dio prorompe necessariamente in questo grido mio Dio io ti amo però Maria Di Magdala si reprime confessa a cui perché dice ma io sono stata una grandissima peccatrice ho ancora labbra tanto sporche di parole tanto profane ma che faccia mi presenta a dire a Dio io ti amo così dall'altra parte e Maria appena dice così no perché ma perché mi pare che farei le sacrile che ho offerta offri il mio cuore e qui sentite la grande maestra non lo fare figlia non lo fare il tuo cuore è prima di tutto riconsagrato dal perdono del figlio il padre non vede che questo perdono ma se anche Gesù non ti avesse ancora perdonata e tu in una solitudine ignorata che tanto può essere materiale come morale gridassi a Dio io ti amo padre perdona le mie miserie perché io di esse me ne spiaccio per il dolore che ti danno credi credi pure a Maria che il padre Dio ti assolverebbe di suo e caro gli sarebbe il tuo credito di amore faccio subito una sosta prima che mi scordo delle cose importantissime qui si toccano delle cose importantissime allora uno ricevuto il perdono di Gesù dobbiamo stare al perdono di Gesù non pensare che se il nostro tempo è stato riconsacrato dal perdono del figlio adesso io cioè si è stato riconsacrato però sono sempre quello che sono quindi no se il tempo è stato riconsacrato nel tempo riconsacrato si può ufficiare nel tempo profanato no ma nel tempo riconsacrato si capite cosa significa fuori di metafora no poi dice guarda che se anche tu non fossi stata così fortunata nel senso che mio figlio ti ha dato la soluzione guarda che se tu ti trovassi sola stessi a piangere i tuoi peccati come dice il santo curato d'Ars no e dicessi gridassi a Dio io ti amo padre perdona le mie misere perché di esse me ne spiaccio che ti danno il padre ti assolverebbe di suo e caro gli sarebbe il tuo grido di amore dobbiamo ricordarle queste parole abbandonati dice Maria abbandonati all'amore non fare violenza adesso lascia anzi che esso divenga violento come incendio avvampante l'incendio consuma tutto ciò che è materiale ma non distrugge una molecola di aria perché l'aria è incorporea anzi la purifica dei detriti minuscoli che i venti vi seminano la fa più leggera così l'amore allo spirito consumerà più presto la materia dell'uomo se ti lo permette ma non distrugge lo spirito anzi ne accresce la vitalità e lo fa puro e agile per l'ascensione a Dio vedi la Giovanni è proprio un ragazzo ma pure è un'aquila è il più forte di tutti gli apostoli perché ha compreso il segreto della fortezza della formazione spirituale la amorosa meditazione che sto da farci da farci un quadretto la amorosa meditazione sintonizzarsi su queste frequenze su queste frequenze San Giovanni è diventato un'aquila per questo motivo lui era l'innamorato di Gesù sintonizzato perfettamente su queste frequenze vergine ecco la condizione privilegiata per poter dire questa cosa ma l'altra condizione privilegiata come emerge qui è quella del grande peccatore convertito sapete qual è la condizione peggiore io l'ho detto tante volte è dei tiepidi c'è di di quelli che non hanno bisogno secondo loro di convertirsi perché va tutto bene ecco qui ci sono dei problemi abbastanza seri e guardate che così campano diverse centinaia migliaia centinaia di migliaia non saprei anche di battezzati sono quelli che vanno a messa la domenica anche abbastanza regolarmente ma è una convinzione che stanno già tutto quindi che cosa altro devo dire cosa altro devo imparare poi diventano come il novello fariseo che andava al tempio io vado a messa la domenica dico perché è da mattino magari pure qualcuno della sera non faccio niente di male a nessuno e quindi e quindi che se questo fosse vero forse speriamo un po' di più di forze sta in stato di non dannazione quindi se dovessi morire se sta realmente così all'inferno dovrebbe essere molto difficile andarci ecco ma da qui a stare già quasi in paradiso come stava San Giovanni Apostolo fin da questa vita ci passa un abisso no e Maria di Magdala anche qui all'esempio di San Giovanni ribatte ma lui è puro io ma lui è un ragazzo io e allora Maria Santissima dice allora guarda lo zelote l'ho detto già in questo ciclo di carichesi che lo zelote è un personaggio molto interessante non è un ragazzo ha vissuto ha lottato ha odiato e gli lo confessa sinceramente ma ha imparato a meditare e lui pure credimi è benenato vedi si cercano quei due erano amici San Giovanni e Simone lo zelote era molto anziano e aveva un background completamente differente perché se io non ricordo male Simone lo zelote aveva fatto un omicidio non perché era zelota non soltanto perché era zelota quindi cioè non è che veniva trattata in una realtà cioè aveva fatto dei peccati abbastanza grossi quindi si cercano quei due perché si sentono uguali voi sapete che ha il proverbio popolare similes cum similibus guardate quello è un cecchino infallibile è uno sniper peggio dei killer delle serie tv poliziesche americane è proprio infallibile similes cum similibus che sappiamo anche la variante del proverbio italiano no? lo ricordiamo dimmi con chi vai e ti dirò chi sei si cercano quei due perché si sentono uguali hanno raggiunto la stessa età perfetta dello spirito e con lo stesso mezzo orazione mentale infatti a proparentesi simone lo zelodo questo particolare sia dagli iscritti di maniera valtor certamente come gli altri apostoli non è andato sul calvario ma aveva ricevuto un mandato da gesù prima della passione lui e lazzaro di andare a raccogliere e raccattare i discepoli che erano come pecore smarrite in attesa dell'alba della risurrezione l'orazione mentale per essa il ragazzo è divenuto virile nello spirito e per essa il già vecchio è stanco è ritornato ad una virilità forte e sai un altro che senza essere apostolo sarà anzi è molto avanti per la sua tendenza naturale alla meditazione che da quando è amico di Gesù è divenuta in lui in necessità spirituale tuo fratello infatti tuo fratello è la terza persona insieme a Simono Lozerota ecco qualcosa anche San Giovanni coinvolta nella passione di Gesù anche a lazzaro Gesù dà un mandato se non ricordo male quello di raccogliere nella sua casa gli eventuali come dire profughi apostoli e discepoli rimasti scandalizzati dalla tragedia del venerdì santo quindi un altro tuo fratello guarda caso il migliore amico di Gesù Lazzaro mi ricorderà mi ricorderà tutte le pene di cui sono causa io vorrei volare da Nazzaro ma ne ho paura prima ci andavo e neppure ricordi della mamma morta le sue lacrime ancora vie sugli oggetti da lui usati lacrime per me per mia colpa mi turbavano mi turbavano il mio cuore era cinico cinico solontato chiuso ad ogni voce che non fosse male ma ora io non ho più la malvagia forza del male tremo che mi farà Lazzaro qui caruccia no qui c'è anche la tematica molto delicata di quello di come il mondo tratta i peccatori convertiti a volte i membri della sua stessa famiglia ovviamente non è questo il caso di Maria di Magdala adesso sentiremo come la Madonna la rassicura però queste considerazioni questi timori anche di Maria di Magdala è normale che vengano perché si avvertono tante cose quindi dice ma che figura che cosa mi dirà che mi farà Lazzaro la Madonna non risponde ti aprirà le braccia e ti chiamerà più col cuore che con le labbra sorella di Letta e poi lo spiega è tanto formato in Dio che non può che usare questo modo non temere non ti dirà una parola sul passato egli è come se lo vedessi è là a Betania e gli sono bel lunghi i giorni dell'attesa attende te per stringerti sul cuore per saziare il suo amore di fratello tu non hai che amarlo come ti ama lui per gustare la dolcezza di essere nati da un seno risponde di Magdala lo amerai anche se mi rimproverasse me lo merito ma egli ti amerà soltanto dice Maria questo solo vedete anche qui è proprio dell'umiltà figlioli miei cari pensare hai sbagliato arriverà mi provero e che sarà mai te lo meriti la persona umile anche la persona un pochino formata ha questa disposizione il signore mio cioè non è che avete visto le persone non riesco ad avere una valutazione positiva di questo dopo che tu sei stato un peccatore c'è l'eccesso l'abbiamo già visto prima del dubitare della misericordia di Dio forse non mi ha perdonato oppure non posso rivolgermi così perché comunque sono stato un grande peccatore questo non va bene questo qui ecco però c'è anche l'altro estremo ah benissimo Dio ha perdonato c'è quella come dire scioltezze disinvoltura che ti fa dimenticare sì Dio ti ha perdonato però se qualcuno viene a farti una piccola come dire partaccia che non è gradevole certamente no però la offri la prendi te la tieni e la offri perché c'è questo pensiero meno merito chi di noi è così saggio che quando ci accorgiamo ci sorprendiamo che abbiamo fatto qualche cosa che non va prega in questo modo oh signore mio certo può decidere il tuo perdono e andrò a riceverlo più presto possibile però il perdono sì ma anche la giustizia c'è qualche pena da subire c'è qualche tra virgolette castigo da sopportare eccomi ci sono me lo merito dice Maria di Magdala di questo dobbiamo essere sempre consapevole attenzione per questo non bisogna essere dei grandi peccatori non necessariamente Maria Santissima non era certamente una gran peccatrice una bestemmia soltanto ipotizzare anche una minima ombra di peccato però la piena di grazia sapeva benissimo che tutto quello che diceva è tutta grazia cioè noi non abbiamo dei meriti in senso stretto davanti a Dio dice il trattato di grazia proprio in senso stretto e in senso forte Dio come dire ci attribuisce alcuni meriti e ci riepura in ricompensa molto profumatamente ma quei meriti noi li possiamo acquisire solo e nella misura in cui viviamo in grazia è perché se non vivessimo in grazia addio ecco però la vita di grazia non deve far dimenticare la necessaria umiltà e anche il coraggio di dire signore mio ha fatto stessi guai se c'è qualcosa che tu ritieni insomma che sia opportuno e che possa essere utile per la mia espiazione e purificazione eccomi ti lo diciamo stai tranquilli che se il nostro Dio non vuole non ti manda chissà che o chissà che cosa non te la fa venire non succede niente non succede però se tu fai una cosa di questo genere con la convinzione del cuore è tanta roba è una bella botta insomma data a chi ancora ci tiene qualche zovorra sulle spalle capite fuori di metafora a chi mi sto riferendo hanno raggiunto i due Giovanni e Simone che parlano dei viaggi futuri che si alzano riferenti quando giunge la madre del Signore veniamo anche noi a lotare il Signore per le belle opere delle sue creazioni vedete dice Maria di Nazareth vedete che qui si prepara a fare facciamo un attimo un collegamento un po' azzardato un giro nella divina volontà no? veniamo anche noi a lotare il Signore per le belle opere della sua creazione domanda a Maria Santissima hai mai visto il mare madre? e Maria risponde oh l'ho visto ed era allora meno turbato esso nella sua tempesta del mio cuore e meno salato del mio pianto mentre fuggì lungo il nitorale da Gaza verso il Mar Rosso con il mio bambino fra le braccia e la paura di oro dalle spalle e l'ho vista al ritorno ma allora è la primavera sulla terra e nel mio cuore la primavera la primavera del ritorno in patria e Gesù batteva le manine felice di vedere cose nuove immaginate che scenette ed io e Giuseppe pure eravamo felici per quanto la bontà del Signore ci avesse fatto mendura l'esilio a Matarea in mille modi la loro conversazione dura mentre a me cessa la capacità di vedere e di udire ecco ovviamente non non intraprenderemo il prossimo paragrafo che è molto in modo lungo che c'è un'altra paneggirico di Maria Magdalena è come il fango di venuto fuoco nel sacrificio offerto da Neemia ora vedete qui Maria Santissima parla del suo esilio in Egitto il mare quando l'ha visto durante il viaggio di andata e durante il viaggio di ritorno per la fuga in Egitto ecco e così racconta alcuni alcuni particolari un po' graziosi e ci fa anche vedere per esempio i tratti tipici di una umanità sana attenzione che Maria era perfettissima il ritorno in patria la prima era del ritorno in patria perché l'essere in senso buono patrioti quindi attaccati affezionati in maniera moderata alla propria terra al proprio paese alle proprie abitudini hanno questo effettivamente compatibile con l'essere con l'essere santi perché no cosa c'è che non funziona se no bisogna essere distaccati da tutti ma che significa questo qui cioè distaccato non è stata la Madonna se la volontà di Dio dice devi partire devi andare in esilio via parte e vai e vai in esilio ma se a un certo punto la volontà di Dio dice torno a casa non è peccato essere contenti di questo no perché cioè queste cose sono delle cose di per sé buone come dire espressione di una personalità normale sana evidentemente c'è bisogno di dire di dire queste cose della Madonna che è ovvio che c'è una personalità sana però questo certamente di rispetto aiuta anche noi no quindi una delle cose belle che compare negli scritti di Mario Valtorto oltre a tante altre cose ci ho fatto un ciclo di catechesi anche su questo è questa figura divina della Madonna ma divina non vuol dire disincarnata cioè eterea fuori del mondo no è divina è una donna divina è una donna che ha vissuto una vita assolutamente straordinaria ma immersa nelle realtà che tutti gli uomini vivono più o meno non tutti vanno in esilo però però le dice in una maniera veramente impressionanti no io e Giuseppe eravamo felici per quanto la bontà del Signore ci fosse fatto menduro le sile a matare in mille modi anche voi lo sarebbe ad andarselo a leggere sugli scritti di Mario Valtorta per capire qualche cosa del bello che successe anche attraverso questo viaggio e queste circostanze bene amici possiamo chiudere questa puntata siamo arrivati quasi alla fine dandoci appuntamento alla prossima dove avremo un altro articolo molto lungo ed elaborato che ci fa comprendere ulteriormente queste tappe del processo di sempre maggiore commerciale e santificazione di questa donna straordinaria bene vi benedica una donna che protegga e ci vediamo se ti vuole alla prossima